Dear friends, I remember a Nibiru video. Cari amici, io ripenso a un video su Nibiru. Col telescopio nello spazio profondo osserviamo galassie di milioni di anni perché la loro luce non è coperta da altra luce. Il pianeta Nibiru non è visibile perché è un pianeta oscuro. Geofisical and climatic events and the contact of the extraterrestrial creatures with Nibiru. Eventi geofisici e climatici e il contatto con le creature extraterrestri con Nibiru. Grazie. 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 17 febbraio 2015, Marcio, provincia rivarese, con i monti. Grazie. 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 Grazie.